un cordiale buon pomeriggio dal Cilidiano di Aversa si comincia con una maiden per due anni un allineamento un po' così e così diversi concorrenti in difficoltà tra questi c'è anche il favorito Casper Griff la chiusura delle ali assume il comando Capunca all'interno Cristofa Rosanna che va in seconda posizione in terza invece troviamo Cosmos nel frattempo è finito negli strali della giuria il numero 9 Conte RG più sollecito del solito Coltrane Run in quarta posizione nel frattempo Cristofaro ha abbandonato la corda e è andata a rilevare al comando Capunca che vuole esprimersi all'attesa sono quattro quelli un po' staccati dal resto della compagnia poi tra gli altri Cristindino cerca di emergere e raggiungere il gruppetto che capeggia la gara 45 e mezzo notevoli c'era stato un tentativo esterno di Coltrane Run che poi con l'arrivo della curva ha dovuto desistere e tornare in quarta posizione il figlio di Uro Puro Barra completa il giro in uno uno e otto squalificato anche Centauro Caf così al completamento del chilometro che il leader percorre in uno diciotto e due squalificata anche Catalea sembra in calo Cosmos e si affaccia ai suoi fianchi Coltrane Run nel frattempo Cristofaro sta comandando e gestendo la gara nel miglior modo possibile adesso le sue chance aumentano nettamente sta prendendo vantaggio a Capunca ingresso in retta d'arrivo con loro Puro Barra affidato a Tufano in vantaggio e dovrebbe rivelarsi definitivo e così Cristofaro San va ad imporsi mentre al secondo la buona Capunca che fa percorso netto e dal terzo Cosmos che si difende da Coltrane Run dovrebbe essere andata così media di uno diciassette e tre per il vincitore Cristofaro San un figlio di Oropuro Barra e Doltonia Alan di proprietà del signor Raffaele Garofalo che Vitale Matera ha affidato a Francesco Tufano linea allo studio Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille